un ninja salima io devo andare a kabul allah mi ha dato questa voce il suo dono per me assolutamente ma perché sei nel mio bagagliaio devo onorarlo con la mia musica devo celebrare alla con il mio canto devo per forza andare a kabul stai sfondando una porta aperta ma lo sai tuo padre la famiglia a quanto pare che mi ammazzeranno se è questo che alla vuole va bene è il nostro destino no ti sbagli mi dispiace non ho alcuna intenzione di morire hai capito diglielo rita ora che for kabul di là ferma ferma dove sei salima dal momento in cui mi hai sentito cantare e mi hai trovata in quella grotta da quando siamo qui su questa terra tutta la nostra esistenza ci ha condotti a questo tempo in questo posto richie lenz la nostra storia è già stata scritta e ora dobbiamo fare la nostra parte dobbiamo non c'è altra scelta è dio che lo vuole ok ma io voglio il 20 per cento allora ciao ciao ciao